Ferdinando Caredda, un'estate sicuramente particolare per Ischia, per il mondo, c'è sempre la pandemia, sicuramente rispetto all'anno scorso si sta lavorando di più, i numeri dicono questo, dal punto di vista dei lavoratori stagionali però, come sta andando? Sì, allora i lavoratori stagionali quest'anno stanno soffrendo questa forte incertezza, infatti le aziende stanno facendo contratti ogni 30 giorni, con scadenza ogni 30 giorni e i lavoratori stagionali quindi si trovano davanti a questa forte incertezza, a questa forte crisi economica e molti di loro hanno anche rifiutato il lavoro, perché paradossalmente dà più garanzie lo Stato, elargendo bonus che un imprenditore che si trova a far fronte di questa crisi economica. Allora oggi il primo punto da smentire è che il reddito di cittadinanza non fa trovare il lavoro, non è vero perché per prendere il reddito di cittadinanza bisogna presentare un ISEE e per l'ISEE che si presenta oggi guarda i redditi del 2019, quindi è impossibile che qualcuno nel 2019 lavorava a nero e fai il furbetto, ma nel 2019 il 90% dei lavoratori lavorava, quindi dal punto di vista tecnico questa cosa subito è da smentire. Poi i lavoratori stagionali oggi, come dicevamo, si trovano a far fronte di questa incertezza, il governo ha prorogato lo Stato di Emergenza fino a dicembre, quindi presumibilmente darà altri bonus e come abbiamo visto l'anno scorso che ha lavorato solo un mese ha perso il bonus invernale, quindi il lavoratore stagionale oggi non sa se lavorare o meno perché non sa se può mettere il piatto sulla tavola questo inverno. Se lavora e non prende il bonus adesso può far fronte alle spese correnti di una famiglia e di quest'inverno no, all'incontrario se non lavora forse quest'inverno grazie al governo che ha prorogato lo Stato di Emergenza può vivere grazie ai bonus, quindi è uno Stato di incertezza totale e dall'altro lato ci sono anche le aziende che stanno soffrendo perché comunque lavorare sei mesi, sette mesi prima della pandemia e lavorare un mese, due mesi oggi anche loro stanno vivendo una crisi molto importante, quindi spero che ci usciamo prima possibile da questa grande crisi. Quanto incide negativamente ovviamente in questa scelta anche la Naspi e quindi il fatto che si prende praticamente la metà dei mesi lavorati e i salari che molti dicono essere troppo bassi, inferiori o comunque pari ai bonus allargiti dal governo? Allora la Naspi, hai dato la risposta perché se lavori un mese, due mesi, luglio, agosto, se siamo fortunati settembre prendono un mese e mezzo di Naspi, quindi quest'inverno non possono far fronte alle spese correnti. Poi dall'altro lato ci sono molti imprenditori spregiudicati perché lo erano anche prima della pandemia, con un contratto di 6,40 ore, addirittura alcuni contratti part-time ti facevano lavorare 10-12 ore al giorno. Oggi ci sono molte realtà, non dico che tutti imprenditori sono così, non me ne vogliate, però comunque ci sono molti imprenditori che si appoggiano sulla scusa della crisi per sfruttare i lavoratori. Per chiudere, cosa è auspicabile quindi per il futuro e soprattutto dal punto di vista del lavoro a nero stanno aumentando i controlli dei carabinieri? Allora cosa ci spieghiamo per il futuro? Che il governo ci aiuti, che il governo aiuti questi lavoratori adottando misure ad hoc e in più sono contento perché si vocifera che nel 2022 ci sarà l'anno bianco del turismo, ossia che le imprese del turismo non pagheranno le tasse quando assumono i lavoratori e quindi meno soffrono le aziende, meno soffrono i lavoratori. Faccio un appello agli imprenditori isolani ma agli imprenditori di tutto il comparto turistico, se c'è sinergia tra i lavoratori e gli imprenditori abbiamo sempre più un turismo di qualità ma se si crea questa divisione tra lavoratori e imprenditori ci sarà più sfruttamento quindi ci sarà meno accoglienza da parte dei lavoratori e il turismo di qualità ce lo possiamo dimenticare sull'isola.